Ciao Cici, welcome back, this is Italia e dai con la traduzione della canzone di Katy Perry tu cambi idea come una ragazza cambia i vestiti cioè spessissimo, tu hai la sindrome premestruale come una stronzetta che conosco e non va bene e tu strapensi e parli sempre in maniera critica, poi sei un criticone dovevo sapere che tu non andavi bene per me ma dovevo ascoltare anche i consigli degli amici della nonna perché sei caldo poi sei freddo, sei dentro poi sei fuori poi sei su e poi sei giù, hai torto quando hai ragione è nero quando è bianco, litighiamo, ci mogliamo, ci facciamo e poi lo facciamo, perché poi si sistemano le cose davvero non vuoi restare però nemmeno te ne vuoi andare insomma, ma che cosa vuoi? Darsi una regolata è caldo, poi sei freddo, sei sì, poi sei no poi sei dentro, poi sei fuori, sei su e poi sei giù cioè io credo che nella vita un uomo prima o poi una decisione la debba prendere per essere chiamato tale noi eravamo soliti essere come gemelli così in sintonia, la stessa energia adesso è una batteria scarta noi eravamo soliti ridere di niente proprio di niente e adesso è una noia mortale dovevo sapere che tu non saresti cambiato però che io te l'avevo detto è perché tu sei caldo, poi sei freddo, poi sei sì, poi sei no poi sei dentro, poi sei fuori, poi su, poi sei giù oh, sei torto quando hai ragione è neve quando è bianco, litighiamo, ci mogliamo, ci facciamo perché gira e rigira, poi si torna sempre lì davvero non vuoi restare però nemmeno te ne vuoi andare e allora che cosa vogliamo fare perché sei caldo, poi sei freddo, sei sì, poi sei no poi sei dentro, poi sei fuori, poi sei su, e poi sei giù ma io ti consiglio pensaci prima di metterti con me ah no, perché poi tanto adesso vi siete anche divorziati insomma te ne sarai resa conto uno nella vita deve prendere anche una direzione, una decisione e qualcuno chiama il dottor, il medico perché ho un caso di amore bipolare sono bloccato su una monetagna russa e non riesco a scendere da questa posta cioè scenario apocalittico, poi tu di così si muore perché tu cambi idea, come una ragazza cambia i vestiti cioè spessissimo, almeno una volta al giorno, almeno se non mi fai se non mi dico, eh, chiama è capitante perché tu sei caldo, poi sei freddo poi sei sì, poi sei no, poi sei dentro, poi sei fuori poi sei tu, poi sei giù poi hai torto quando hai ragione è nero quando hai bianco ohhhh, litighiamo, poi ci muoiamo, ci facciamo sì, poi lo facciamo perché la ruota gira, gira, rigira se la facciamo anche passare però davvero non vuoi restare, però nemmeno te ne vuoi andare cioè capisci in che situazione perché sei caldo, poi sei freddo, poi sei sì, poi sei no poi sei dentro, poi sei fuori poi sei su, poi sei giù insomma, è anche una che vuole un minimo di riferimento nella sua vita poi un capo saldo perché sei caldo, poi sei freddo poi sei sì, poi sei no, poi sei dentro ma poi sei fuori, poi sei su però ti ricordi che vuoi essere anche tu senti, qua mi è venuto un caldo che lasciamo stare io ti consiglio, se puoi, chiudi questo rapporto che come tu hai detto ti fa sentire su una montagna russa e qui è finita la canzone grazie a tutti grazie a tutti